Ci sono storie che solo la natura sa raccontare. L'importante è saperle cogliere e trasmettere, soprattutto ai più piccoli. È quello che fa Gian Umberto Accinelli, entomologo e scrittore, che ha raccolto alcune delle storie osservate dal Po e le ha raccontate ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, nell'ambito della manifestazione Il mare in città, il micro-festival promosso dal comune di Piacenza, che per due giorni ha animato la sponda piacentina del Grande Fiume, nell'area dello Scalo Pontieri, tra conferenze e spettacolo, laboratori didattici e presentazioni di libri. La natura ha tantissime storie, perché la natura è antica e quindi in un lasso di tempo quasi infinito ha raccolto milioni di avventure. Storie legate al Grande Fiume e all'origine della pianura padana. Il Grande Fiume parte dalle Alpi, arriva in pianura padana, poi sfocia nell'Adriatico e quindi ha tante storie e tutte diverse. A me piace molto quella delle api, delle api italiane, api che vivono dappertutto, ma soprattutto in Italia. E poi quella del Gipeto delle Alpi, che appunto è un uccello delle Alpi, ma anche alcune bizzarre, come l'aranatoro, che è arrivato proprio da queste parti, dall'America, oppure il Pesce Luna, che è stato pescato nelle acque di Rimini tanti tanti anni fa. Soddisfazione nell'amministrazione comunale per questa prima edizione di Il mare in città. È stata una grande scommessa per noi, un grande lavoro di squadra, abbiamo visto che piano piano le persone arrivano, ieri sera la sala era piena e lo spettacolo è andato molto bene, quindi insomma siamo soddisfatti per ora.